a ognuno secondo la sua fede la verità è una ed eterna realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale nel profondo del tuo essere il seguente commento è basato sugli insegnamenti di paramanza yogananda nel vangelo secondo giovanni capitolo terzo leggiamo chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in dio è un'esperienza comune sperimentata da molti che quando una persona commette un errore prova il desiderio di nasconderlo alla sua coscienza piuttosto che offrirlo in alto perché sia purificato l'errore tiene strette a sé le sue azioni malvagie e rifiuta ogni correzione anche se è solo nello stato di purezza che la libertà perfetta può essere raggiunta è necessario un atto di volontà per offrire quella perfetta per offrire quella consapevolezza alla luce e per mantenerla in essa fino a che la propria oscurità interiore non si sia completamente dileguata ogni stato di coscienza infatti possiede un suo potere di attrazione quanto più permettiamo a quella attrazione di esercitare il suo fascino su di noi tanto più attiriamo a noi le circostanze e le esperienze obiettive che sono connaturate a quello stato di coscienza la nostra fede è il potere di attrazione del nostro stato di coscienza generale la bontà attrae bontà ci vuole bontà anche solo per vedere la bontà il male attrae altro male e ci vuole male anche solo per vedere il male vale a dire per accorgersi della sua esistenza tutto quello che in te è tenebra o luce offrilo a dio solo nella sua luce suprema troveremo la salvezza non accettare in te stesso quale tua realtà permanente nulla di inferiore a questo come afferma la bhagavad ghita nel capitolo dodicesimo aggrappati a me abbracciami con il cuore e con la mente così dimorerai certamente in cielo con me ma se la tua mente si scoraggia di fronte a tali altezze se ti manca la forza di fissare corpo e anima costantemente su di me non disperare offrimi servizi meno elevati cerca di raggiungermi pregando con volontà costante e se non puoi pregare incessantemente lavora per me impegnati in opere a me gradite perché colui che si impegna in opere giuste per amor mio alla fine mi raggiungerà ma seppure in questo il tuo cuore timoroso fallisce offrimi il tuo fallimento così attraverso la sacra scrittura dio ha parlato l'umanità buona domenica di nuovo anche a tutti coloro che ci seguono via internet non è bello questo prano della bhagavad gita uno dei prani più belli che proprio taglia netto a un dio giudice a un dio che ti condanna eterno pazienza un'infinità di pazienza che dio ha con tutti noi altrimenti quest'universo probabilmente non esisterebbe più però vorrei partire con un attimino di ripensare a questa enorme promessa alla permessa delle scritture dei maestri quello che ci dicono tutti inizialmente dicono guardate voi potete raggiungere un stato di consapevolezza che è chiamato beatitudine che però è una parola che per tante persone può valere tante cose però Yogananda ha detto che come quando noi adesso nel nostro corpo percepiamo tipo 12 volts di corrente è come percepire 12 milioni di volts una corrente che ci attraversa ha un canale sconosciuto alla medicina un canale invisibile chiamato Shushumna un nervo dove possiamo avere una sensazione che è più bella di qualsiasi cosa largamente immaginabile da noi ora in questo momento e una consapevolezza se adesso noi tutti siamo identificati con il nostro corpo forse un pochino intorno al nostro corpo una consapevolezza talmente ampia che questo universo è troppo piccolo che va molto oltre la confine di questo universo nell'eternità una conoscenza che ogni scente che sa tutto di tutte le cose di tutti esseri mai vissuti nello stesso momento è una luce viene spiegato anche nella Bhagavad Gita come mille soli per una luce che non ti accecca una luce che ti di dolce che ti fa sentire benissimo eccetera eccetera potrei andare avanti per questa è la grande promessa dei Santi che tutti noi io, te, tutti voi possiamo anche in questa vita anche in questa vita raggiungere un tale stato di consapevolezza e anzi tutti noi siamo questo in verità questa è la nostra vera natura tutto il resto è un'illusione che abbiamo per vari motivi ci abbiamo identificati tutti con una personalità con un corpo con tutto questo e ci abbiamo limitati in questo mondo così duale così piccolo anche in certo senso vi dico una piccola parte della poesia Samadhi di Yogananda che è talmente bello perché anche Yogananda ha detto se potete cercate di leggerlo ogni giorno anzi di ricordare questa poesia Samadhi perché racconta il nostro vero stato di consapevolezza che è il nostro compito anche di creare questa fide di creare questa nella nostra mente questa affermazione che questo è il nostro naturale stato di consapevolezza più ci pensiamo più probabile diventa che possiamo raggiungere questi stati di consapevolezza tu sei me io sono te conoscenza conoscitore conosciuto in uno gueto perenne brivido eterna pace sempre nuova godibile oltre l'immaginato beatitudine del Samadhi non un anestetico mentale o uno stato inconscio senza voluto ritorno il Samadhi è un'espansione della mia sfera cosciente oltre i limiti della forma motale fino ai più lontani confini dell'eternità dove io cosmico mare contemplo il piccolo ego che fluttuo in me dove io cosmico mare contemplo il piccolo ego che fluttuo in me immaginate un tale stato di consapevolezza dove io cosmico mare contemplo il piccolo ego che fluttuo in me quando ero giovane diciotto anni più o meno leggevo l'autobiografia di un yogi quando ho letto queste cose di questi stati di coscienza diceva questo per me io voglio questo capitava anche in stesso momento quando ho letto l'autobiografia di un yogi veniva un kriya yogi indiano a Monaco dove abitavo e andavo subito lì prendevo kriya yoga e credevo che adesso un po' di sforzo e raggiungo questo samadhi questo famoso samadhi però devo ammettere che purtroppo non non era così facile ok la scusa ero giovane però Yogananda anche quando ho riletto un po' i racconti quasi cento anni fa negli anni venti del secolo scorso quando lui è venuto in occidente ricordatevi in questa epoca anche viene bene mostrato nel film Wake la gente non sapeva niente di yoga di karma di queste cose però lui mica ha usato mezzi termini ha parlato di un stato ha parlato di questo di questo stato di consapevolezza talmente elevato e non ha fatto compromessi non ha fatto tanti compromessi se non anche parlando di tutti i vari aspetti della vita come come utilizzando questo metodo per avere anche successo per far avere un matrimonio felice per tutti i vari aspetti della vita però ha sempre mantenuto come scopo ha sempre detto e oggi ancora ci dice attraverso tanti ragazzi lo scopo della vita è questa questa consapevolezza e quando oggi ci guardiamo intorno anche nel grande movimento di yoga che esplose negli ultimi anni in tutto il mondo che sinceramente in gran parte è una ginnastica un pochino raffinata però tante persone che io conosco anche criticano questo ma non è vero yoga yoga in verità è questo che diceva Yogananda eccetera però credo che tutto va bene tutto va benissimo perché per ognuno dal livello dov'è al momento trova qualcosa e anche se solo si chiama yoga in qualche modo forse capita un altro libro dello yoga dove forse parlerà dello scopo dello yoga dell'unione con Dio con l'infinito quindi io credo c'è di tutto per tutti tutto vada bene e ognuno troverà nel giusto momento il messaggio di quello che ha bisogno però per noi ricercatori questo è un po' l'appello non dimentichiamo e facilmente dimentichiamo questo obiettivo che è possibile di raggiungere questa unione con il divino se facciamo lo sforzo e troppo facilmente siamo anche distratto perché anche in tutta la gamma dell'offerto mai del mercato della spiritualità c'è di tutto poi applicando queste tecniche per soddisfare i tuoi desideri alla fine soddisfare i tuoi desideri e la gente va lì in grande perché al fine che tutti noi vogliamo è soddisfare i nostri desideri e anzi anche le scritture antiche dell'India vedici ce l'hanno tutto quello ci sono proprio delle shastras delle scritture ti danno il mantra come configgere il tuo nemico ti danno le pratiche per avere figli o per diventare ricco eccetera anche scritture vedici scritte dai rishi contengono tutta questa conoscenza una volta qualcuno ha chiesto a Swami Kriyananda ma come mai i rishi hanno detto tutto questo anche invece di solo parlare del percorso verso la liberazione i Swami la risposta era molto pratico ma diceva la gente comunque cerca di soddisfare i propri desideri perché non dando il metodo dove utilizza il divino Dio afferma il divino mentre lo fa comunque e prima o poi leggeranno anche gli altri aspetti dell'insegnamento così va bene così è la vita ognuno trova questo che cerca e proprio la propria fide il polo di attrazione la propria credenza il desiderio crea l'attrazione per trovare quello ognuno al suo livello quello che veramente cerca qualcuno una volta ha detto ma voi qui ad Ananda ce la volete proprio fare sul serio implicava di superare volete superare il proprio ego e quindi anche per questo credo ad Ananda certi simili movimenti non ci sono mai le grandi masse della gente perché a un certo punto va sul serio ai punti dove devi lasciare quello che credevi da sempre che sei l'ego le identificazioni con la tua personalità con la tua tuo corpo tutto quella tutta la tua mente anche che pensa sempre sente certe cose le tue memorie dopo un certo punto pian piano non è che vada un colpo però la sfida è di lasciare e fare un passaggio oltre questa identificazione e lasciare indietro pochi poche persone veramente vogliono questo però se vogliamo raggiungere questa promessa dei santi dei maestri quello prima o poi questo passo dobbiamo dobbiamo guardare in questo specchio no? e fare questo passo oltre e loro ci continuano a urlare dire scrivere in tutti i modi e la vita ci confronterà in tutti i modi ci farà soffrire ci darà qualche piacere e andrà avanti avanti anche per milioni di anni fino all'infinito non infinito no fino a quasi l'infinito fin quando noi facciamo questo passo lasciamo indietro quella che è un'illusione di noi stessi di identificarci con quello che non dà felicità che dà limite invece di identificarci con quello che dà questo enorme grande stato di beatitudine di estasi dobbiamo sceglierlo sceglierlo ogni secondo ma non abbiamo dimenticato non ci facciamo la frusta no? andiamo avanti e questo è anche il messaggio un po' di anche di swami diceva non non avere troppi rimorsi non va bene quadrare sempre in avanti spagliato va bene fai il futuro è davanti a te adesso lo fai giusto spalli tre volte fai giusto quattro volte spalli quattro volte fai giusto tre volte e fai eccetera eccetera fin quando aumenterà i passi giusti pare inutile completamente avere dimorsi passato il passato il karma c'è c'è una storia famosa forse tanti di voi lo conoscete del grande yogi tibetano Milarepa conoscete la storia di Milarepa ma Milarepa che era un un ragazzo che la sua famiglia è stato molto maltrattato dai vicini l'hanno rubato il terreno eccetera che ha portato la famiglia in povertà eccetera così la mamma di Milarepa ha chiesto lui di uccidere questa gente che ha fatto male a loro famiglia quindi lui ha imparato la magia nera e ha raggiunto il potere ha creato tipo una grande grandine che tutti i campi sono stati distrutti di questi vicini e la famiglia è morta dei loro nemici ha usato questo potere e dopo quando ha fatto quello che la sua madre voleva si rendeva conto guarda non voglio più niente avere da fare con questo e si è ritirato e è trovato il suo maestro Marpa che lo ha non subito accettato lo ha messo alla prova per decini di anni credo lo faceva costruire una casa dopo l'altra quando era finita la casa diceva ah caspita forse ero ubriaco non volevo la casa quindi togli ogni pietra la rimetti da dove l'hai preso e lo rifai da un'altra parte appena finita quella casa diceva ah caspita mamma mi ha distratto la mia moglie hai sbagliato tutto rifai tutto eccetera andava avanti è proprio diventato un simbolo e lui perché voleva il vero insegnamento subiva tutto questo mentre lui lavorava tutti gli altri discepoli erano intorno al maestro lui iniziava nella meditazione nelle pratiche spirituali eccetera eccetera teneva duro al fine ha avuto l'iniziazione e andava in una grotta a meditare per lunghissimo tempo e non dicionava principalmente mangiava un po' di ortica infatti si raccontava che lui diventava tutto verde perché se non mangiava ortica però il suo maestro gli ho dato un piccolo rullo con una scritta diceva solo se è veramente un problema serio puoi aprire questo scritto e sarà la soluzione del tuo problema e lui dopo anni decenni di meditazioni non è riuscito ad andare era sempre al confine con l'assoluto però non riusciva ad entrare in uno stato di consapevolezza infinita e dopo un po' di decenni diceva guarda è un serio problema e quindi ha aperto e leggeva quello che il suo maestro ha detto e diceva il secreto e l'equilibrio tutto lì il secreto e l'equilibrio però lui ha capito quello che significava e ha cominciato di nuovo a mangiare e con il cibo con un riaggiustamento anche fisico del suo stile di vita si è svegliato con lini e questa famosa corrente è salita fino al centro più sublime e lui è entrato in Samadhi e diventava il più grande yogi del Tibet quindi anche lui facendo questo grande peccato ha ucciso ha usato la magia nera andando avanti c'è speranza per tutti noi se scegliamo e non c'è alla fine non c'è nessuno che condanna se non noi stessi il stile di vita che Swami Kriyananda e Yogananda in verità come primo ha portato non solo l'insegnamento della meditazione però anche ha mostrato e ci ha portato un nuovo stile di vita con la realizzazione del sé come questa grande promessa davanti però allineando tutto quello che facciamo tutta la nostra vita verso questo scopo e utilizzando anche le benedizioni anche i poteri che vengono attraverso queste pratiche per trasformare la nostra vita e in lungo tempo anche trasformare la società che è composta di tante vite e quello era anche la grande eredità di Swami Kriyananda che ha lasciato qui il suo corpo tre anni fa quasi vicino alla sua data di morte tutta la sua vita anche le comunità di Ananda sono una dimostrazione in verità oppure un laboratorio di cercare di creare un stile di vita nell'educazione nei arti nel business nella in tutte le varie nelle rapporti eccetera nella vita sociale e avanti avanti di creare una nuova forma di vita di società anche passata su questi principi dove cominci sempre dove sei devi sempre cominciare dove sei senza avere troppi falsi idealismi nel senso di fare finta che non ci sono certi bisogni abbiamo tutti certi bisogni e dobbiamo fare questi prossimi passi da dove siamo per avere questo scopo chiaro questo obiettivo questa promessa chiara nella mente c'è un'altra storia molto molto carina per i rimorsi per non avere rimorsi una storia che di Ram Prasad che è stato un santo del 1800 del Bengal che Yogananda amava molto Ram Prasad che anche era uno dei grandi divoti della Madre Divina lui ha scritto una marea di canti a Kali la Divina Madre che Yogananda amava di cantare anche tanti di canti cosmici sono in verità canti di Ram Prasad tradotto in inglese eccetera una volta capitava a Ram Prasad che usava nella mattina faceva sempre le sue pratiche come ortodosso hindu di andare al Gange e fare le sue offerte eccetera e lui camminava verso il Gange e incontrava una bellissima giovane donne una splendida giovane donne e lei diceva Ram Prasad canti per me e lui rispondeva no scusami non ho tempo se mi aspetti devo prima fare i miei rituali nel Gange e poi andava a fare i sui rituali e ritornava e questa giovane bellissima donna non c'era più poi si rendeva conto caspita era la Divina Madre che veniva da me e io ho preferito fare non ho capito ho preferito fare i miei rituali eccetera invece di cantare per lei e ho avuto grande rimorso proprio si sentiva molto male e e e pregava tutta la notte successiva in una splendida luce appariva la Divina Madre e lei diceva ma tu non hai cantato per me sono venuto a posto da Varanasi per sentire il tuo canto e tu hai preferito fare altro e è sparito e lui si sentiva ancora malissimo e diceva se lei veniva da me da Varanasi io vado da lei a Varanasi e si è messo in piedi e a questo tempo non c'erano ancora i treni eccetera cominciava a camminare e Calcutta e Varanasi non è molto vicino ci vogliono tanti tanti giorni dopo il primo giorno era molto stanco e però meditava e pregava come al solito e di nuovo appariva questa grande luce della Divina Madre appariva e diceva guarda non hai bisogno di venire Varanasi perché sono ovunque sono onnipresente e sono anche in te e lui era felicissimo e non continuava era emesso nella beatitudine e quindi al fine era un gioco della Divina Madre con lui evidentemente lei anche quando entriamo in questo rapporto con il Divino più autentico il Divino risponde e anche diventa un romanzo Yogananda l'ho chiamato il Divino Romanzo come gioca con noi fa un po' fa anche dei cose strane come in questo caso mi viene in mente un'altra storia di Ram Brassat che perché era era un poeta era un artista che un cantante alla Divina Madre però doveva anche campare e quindi cercava un lavoro e è stato un po' preso in un ufficio di fare la contabilità e sapete la contabilità non è un lavoro molto artistico poetico e lui comunque lo faceva però una volta i suoi colleghi hanno visto che lui scriveva delle parole nel libro del contabile e si sapeva non devi scrivere parole devi fare sempre solo numeri e si chiedevano ma cosa fa lui lì che scrive dentro il libro della contabilità e poi hanno guardato e lui scriveva delle poesie dei canti alla Divina Madre e quindi hanno chiamato il capo il capo ho visto questo era talmente era un buon capo che era talmente commosso che ha detto va bene ti pago comunque e tu vai a casa e scrivi le tue canti per la Divina Madre forse era un altro gioco della Divina Madre con lui così lui ha lasciato poi una grande eredità di canti sublimi alla Divina Madre e poesie di quale anche il zona del Bengal in India è famoso per la bhakti per la devozione alla Divina Madre allora è talmente bellissimo questo prano della Bhagavad Gita se noi che probabilmente pochi di noi riusciamo di rimanere sempre immersi in questo stato di non dualità del uno allora se non riusciamo sempre rimanere in questo stato di consapevolezza talmente sublime allora pratichiamo lo yoga anche nella forma adoriamo Dio in tutto quello che facciamo cantiamo per Lui preghiamo anche nella forma io e te come Fattoram Prasad io singolo individuo con te Divina Madre il rapporto del due io e te se non riusciamo a rimanere in questo stato di non dualità perfettamente Dio ama questo Dio ama se noi entriamo in questo rapporto di amore non vuole nient'altro di questo amore nostro però se anche lì non non riusciamo a mantenere questo e pensiamo ai nostri propri desideri e altre cose come capita a tutti noi fa niente allora se siamo talmente irriquiti usiamo questa irriquitezza e lavoriamo facciamo delle cose però facciamo delle cose buone e mentre lo facciamo pensiamo al Divino mentre lo facciamo e offriamo come dice la Bhagavad Gita Nishkam Karma offri il frutto del tuo lavoro a lui e quindi non è una offerta del denaro all'altare per un atto interiore di lasciare andare tutto lasciare andare di fare semplicemente per fare e rimanere nel momento presente immerso è quello che ti torna indietro va bene però se anche lì non riesciamo a fare neanche questo allora dice Krishna offriamolo il nostro falimento e non importa basta in qualche modo sempre se ci rivolgiamo a lui questo che lui cerca c'è l'infinità del tempo e pazienza e tocca a noi di fare i nostri sforzi corriamo continuiamo a correre indietro ma al fine se siamo onesti anche dopo tanti anni di sentiero spirituale ci sono sempre tanti desideri piccoli grandi che rimangono in giro che è loro che ci legano ancora a tutto questo però se man mano aumentiamo questo desiderio per il divino che diventa più dominante e questo come dice Swami in questa lettura al fine la tua fede vuol dire la tua credenza quello che tu nella tua testa non solo testa ma nel tuo cuore in verità perché la energia la volontà il desiderio del cuore che crea che è la co-creatrice della nostra realtà il desiderio del cuore il città il movimento creato della nostra volontà della nostra energia che è il polo di attrazione e non è talmente facile e controllabile della mente con affermazioni eccetera non necessariamente arriva lì al più profondo all'intenzione del cuore però se man mano arriviamo in questo punto centrale del nostro essere e desiderare questa esperienza questa promessa di beatitudine vogliamo questo più di tutto il resto nel mondo se al fine vogliamo solo questo questo è il momento quando Dio verrà un po' di Grazie.